Un professore d'eccezione per gli alunni dell'Istituto Professionale San Neno Petriccione di Ponticelli questa mattina a lezione di Costituzione. In cattedra, nell'aula magna della scuola, il sindaco della città Luigi De Magistris, che ha dato il via ad un ciclo di incontri che coinvolgeranno 1.400 studenti di 73 istituti napoletani. 6 le elezioni in programma fino ad aprile 2012 per diffondere tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado l'importanza della Carta Costituzionale e della Democrazia come beni comuni da difendere. Parlare di Costituzione significa parlare di uguaglianza, di diritto al lavoro, di solidarietà, di Italia Unita, l'ha ricordato anche il Presidente della Repubblica quando è venuto a Napoli. Credo sia un percorso importante da fare con i ragazzi che sono il futuro di questa città e del nostro paese. Agli alunni è stata richiesta la realizzazione di elaborati che saranno poi oggetto di un evento conclusivo con i rappresentanti scolastici e momenti di riflessione sui principi fondamentali della Costituzione. Ne direi due. L'articolo 1, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, il lavoro è un diritto. L'articolo 3, l'uguaglianza senza distinzione di razza, di sesso, di religione, l'uguaglianza di tutti i cittadini. Questa è una norma che è scolpita nel mio cuore.